Siamo arrivati alla diciassettesima edizione, quindi per noi una grande soddisfazione, ma credo che lo sia ancora di più per i cittadini ordanesi. Questa è una sagra che, a differenza di quella della porchetta, è una sagra per noi molto importante perché in questa sagra lavorano i cittadini della frazione di Ornano. Quindi è una sagra organizzata veramente da tutto il paese e quindi noi ne andiamo molto molto orgogliosi. Devo dire che quest'anno abbiamo un parterre di cantanti e di ospiti di notevole spessore, quindi mi fa molto piacere perché come ogni anno, anche quest'anno, si cerca di proporre qualcosa di meglio rispetto all'anno precedente e quindi faccio un ringraziamento al comitato organizzatore e ai ragazzi soprattutto perché sono loro il vero motore di questa festa per quello che hanno creato anche quest'anno. Cerchiamo di unire la parte golosa e culinaria, la parte artistica, cercando di organizzare sempre eventi musicali ogni anno sempre un po' più importanti in modo da attirare sempre un po' più gente a Ornano. L'appuntamento di punta è quello con gli Aprila Class? Sì, abbiamo puntato molto su questa serata, speriamo di avere un riscontro positivo ma diciamo che anche le altre serate non dovrebbero essere da meno come portata di artisti.